Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova live Oggi faremo la ventiquattresima giornata di ritiro E niente, siamo con l'Italia La partita sarà contro il Portogallo Ai calci di rigore E niente, partiamo Già fatta la formazione Primo rigorista, Chiellini Pronto, attenzione Attenzione 1-0 Italia Pronto sul dischetto, Ronaldo Pronto a parare Buffon Attenzione, para Buffon Rigorista Insigne Attenzione, Insigne 2-0 Italia Pronto a parare Buffon Attenzione, Buffon Non la para 2-1 Italia 2, Portogallo 1 Sul rigorista Bonucci Attenzione, Bonucci 3-1 Italia Italia 3, Portogallo 1 Nel mentre Buffon Attenzione, deve pararla Para Rigorista Gabbiadini Gabbiadini Sbaglia Attenzione, è pronto a parare Buffon Para E finisce qui L'Italia vince 3-1 Contro il Portogallo Va bene ragazzi Spero che questa live Vi sia piaciuta Lascia like E iscrivetevi al canale Se non vedete il risultato Sta qui sotto Risultato finale Italia 3 Portogallo 1 E niente Va bene ragazzi Spero che questa live Vi sia piaciuta Lascia like E iscrivetevi al canale E noi ci vediamo Alla prossima Ciao 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 Ciao